ciao sono marco bene oggi sono qua per parlarvi di mutologi la nostra rivista di cyborg cyborg è una parola tedesca credo fosse inglese non è come le parole gratis che in realtà vengono dal latino non dall'inglese o come media che è praticamente fai la somma e poi dividi per il numero degli niente questa nostra rivista parla di cyborg che sono ma sono degli android ah quindi lo sai e cyborg a me viene in mente star wars mi viene in mente gli android esatto esatto e noi infatti quindi state lavorando con star wars no 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 purtroppo non è ancora abbiamo fatto il contratto con un cast? si con George oh mio dio si 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 lo abbiamo fatto dov'è? eh no guarda oggi non mi ha fatto venire come non è potuto venire io io volevo in mente lo so lo so si anch'io la prima volta ho avuto questa impressione o questa sensazione questo cioè tu tu hai conosciuto George Lucas? si tu ci hai parlato? si ci ho parlato e ti posso sicurare che è una persona veramente splendida ha una particolarità fonetica si lui usa praticamente tre du gnome ogni due secondi però è comunque una persona molto simpatica si ha ogni tanto questi tic nervosi un po' così però è una persona molto simpatica si comunque parliamo della rivista che siamo venuti qua per la rivista di cyborg di George Lucas ma scusami ma lui è George Lucas si parliamo di motologi aspetta ti spengo parliamo di motologi e questa è la nostra rivista di cyborg e come avete visto funziona sempre avere un cyborg a casa vostra vi permetterà di avere silenzio in un momento ma scusami queste sono cose di istruzioni? si 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 ma sono questi i tic nervosi di George Lucas ecco perché pensa che tutti siano cyborg e sta iniziando anche lui no 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 ti posso assicurare vabbè parli con Uma Thurman? no 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 perché là c'è una foto di Uma Thurman ma non si vede perché c'è una foto di lui mi parla quindi ma tu non mi parla questa ripresa è molto drammatica perché ti sto per dire che sei malato davanti George Lucas non esiste no non sei credo che questo si chiama ma tu no no basta smetti la basta George Lucas qui sotto il catenince visto? ora vai a attivare il codice e vai a pagare 30 euro per pagare vederti tutte le gare trovo i cyborg si 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 si